Tutto è pronto a San Ferdinando di Puglia per la tre giorni di festeggiamenti dedicati al Santo Patrono. Per l'occasione Teledeon seguirà l'evento di punta in diretta lunedì 30 maggio. Intanto i dettagli nel servizio di Francesco Rossi che ha raccolto l'intervista di Don Mimmo Marrone, parroco di San Ferdinando Re. La comunità di San Ferdinando si appresta a vivere tre giorni molto intensi di fede, di ricordo e anche appunto di passione. Sì, la nostra comunità cittadina che gode del patrocinio di San Ferdinando Re lungo l'anno ha due momenti celebrativi in onore del suo patrono. Questo momento di maggio, il 30 maggio che ricorre la solennità liturgica e poi a fine agosto la festa patronale con festeggiamenti esterni. Connotiamo questi due momenti in maniera diversa. Questo primo momento di maggio ha una connotazione più culturale e celebrativa. Di anno in anno attiviamo delle iniziative che mettono a fuoco la persona del santo, il suo contesto storico, la sua vicenda biografica. L'anno scorso io ho preparato per la comunità sanferdinandese una biografia divulgativa per il santo. Quest'anno una nostra educatrice di azione cattolica e ragazzi, una giovane architetto, Annalisa De Facentis, su un mio suggerimento e avendo come traccia di testo biografico quello che io avevo preparato lo scorso anno, ha approntato una biografia a fumetti molto agile, un volumetto che ha come destinatari soprattutto i bambini di scuola elementare e anche forse i primi anni di scuola media, prima, seconda media, per far sì che i nostri studenti abbiano viva la memoria di quella che è la trama biografica del santo, perché nel nostro paese si tende a confondere la persona del fondatore del paese, Ferdinando II di Borbone, con il santo protettore che è San Ferdinando, re di Leone di Castiglia. Per chi non è di San Ferdinando, vogliamo ricordare brevemente la figura di questo santo? Ecco, San Ferdinando nasce nel 1198, muore a 54 anni nel 1252, padre oltre che re, padre di 13 figli, avuti da due matrimoni perché è rimasto vedovo la prima volta, si è distinto soprattutto per le sue doti di saggezza nel governo, di attenzione agli ultimi, per certi versi anche una sorta di monarchia, tra virgolette, democratica, antelittera, ma perché quasi quotidianamente lui era solito affacciarsi al suo palazzo e chiedere ai passanti momenti di verifica sul suo stile di governo. E quindi questo stile di San Ferdinando, unito a una sua fede salda, alla sua devozione mariana, alla sua venerazione anche per i poveri, ha fatto sì che la sua esistenza giungesse a piena conformazione al Cristo, di cui lui era discepolo, credente e testimone nella sua vita. Il momento culminante di queste celebrazioni è lunedì 30 alle 19.30 con una solenne concelebrazione. Lunedì alle ore 19.30 avremo la presenza in mezzo a noi del Cardinal Monterisi, originario di Barletta, che ci onorerà della sua presenza e illustrerà questo momento nostro cittadino in maniera molto più degna a motivo della sua presenza e del suo ruolo.